buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sul canale allora come avete visto oggi parleremo di riscaldamento e mobilità articolare da eseguire prima di un nostro allenamento ho deciso di fare questo video perché ho visto che un argomento molto sottovalutato dalla maggior parte delle persone perché da quello che vedo molti prima di iniziare il loro allenamento o non eseguono nessun tipo di riscaldamento oppure fanno 5-10 minuti di un attrezzo cardio e poi partono direttamente col primo esercizio allenante allora ciò che andrò a farvi vedere oggi sono degli esercizi di mobilità e attivazione che eseguo prima di un allenamento sono solo un paio di esercizi che si possono eseguire possono eseguire anche altri esercizi questa diciamo è la mia routine che eseguo allora quindi non ci resta che partire con le clip non ci resta che partire con le clip Will it break, can I take Can I be your super hero, super hero Can I be your super hero, super hero, super hero Super hero Fly all away, it's the first time of today, today To dream, believe, you are the strength, you're all I need, need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me, to shield you all from the enemy Can I be your super hero, super hero Super hero, super hero Super hero, can I be your super hero Super hero, can I be your super hero, super hero Super hero, super hero Super hero, can I be your super hero Super hero creo Super hero, super hero Super hero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vi chiedo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video Di lasciare un commento per i prossimi contenuti che volete vedere E di iscrivervi al canale Quindi ci vediamo direttamente in un prossimo video Ciao